Il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Alessandro Fucito, è stato di recente nominato coordinatore nazionale dei consigli comunali in seno a Lanci. Darò con entusiasmo il mio contributo, ha dichiarato Fucito, per riaffermare e sostenere il ruolo delle assemblee elettive. Devo ritenere ci sia un tentativo di offrire impulso alla conferenza dei consigli comunali d'Italia, onore ricevuta una nomina da De Caro e quindi già le prime attività, le prime riunioni in vista dell'Assemblea di Rimini. L'Assemblea si terrà quindi a Rimini dal 23 al 25 ottobre. All'Assemblea partecipano normalmente tutti i comuni, Napoli ha la sua rappresentanza ovviamente con il sindaco vicepresidente nazionale, sono invitati tutti gli amministratori dei comuni d'Italia. Nel corso di questa Assemblea, il giorno 23, avremo anche la conferenza dei consigli comunali e quindi un momento anche organizzativo per rilanciare questo organismo. Cercheremo di mettere al centro il ruolo delle assemblee elettive, quindi dei consigli comunali ma anche delle assemblee elettive in generale oggi in Italia. E quindi credo sia prevista la partecipazione compatibilmente al calendario parlamentare del Presidente della Camera FICO per una discussione sullo Stato della democrazia oggi negli enti locali e in Parlamento. Oltretutto credo che è un tema caldo che richieda la mobilitazione di tutti gli amministratori e delle grandi città perché è in discussione la differenza tra i comuni del nostro Paese, è in discussione il principio di unità e di solidarietà ma soprattutto è in discussione il fatto che sui grandi temi, l'immigrazione, la povertà, le leggi di stabilità, si discuta o meno nel nostro Paese. I comuni in questo possono svolgere ancora un ruolo importante.